Francesco Ferracin, buongiorno. Buongiorno a lei, come sta? Bene e benvenuto, benvenuto davvero per farci attraversare la sua storia e il suo romanzo pubblicato dalla casa editrice padovana Linea Edizioni. Francesco Ferracin firma il romanzo intitolato La Leonessa. Francesco Ferracin nasce a Venezia e il debutto letterario viene nel 2008 quel romanzo Hard Boyd, una vasca di troppo, che bella la definizione Hard Boyd e questo mi porta indietro ai gialli americani, anche per lei, vero? Infatti, senza dubbio, sì, infatti. Non solo fosse un Hard Boyd quando l'ho scritto, ma mi hanno detto che era un Hard Boyd, l'ho cavalcata inconsapevolmente. Certamente, però per chi non conoscesse questa definizione, cosa si nasconde dietro questa definizione Hard Boyd? Beh sì, è una della sottocategoria del giallo, forse anche una sottocategoria del noir, poi dipende sempre dai punti di vista. È la prospettiva che non è quella del detective, diciamo, sono personaggi anche un po' moralmente nella zona grigia, spesso delinquenti, i protagonisti. Raymond Chandler, Dashiell Hammett sono i nomi che mi vengono subito insieme. Esatto, esatto, questo detective è un po' infatti, infatti. Però io l'ho scritto nel 2008, forse pensando alle mie letture di gioventù, e si voleva fare comunque quella volta un personaggio, dei personaggi un po' controcorrente, anche moralmente non ben schierati, anche se comunque una buona morale c'è alla fine del libro. Sì, mi era costato un po' di mal di pancia dopo quando è uscito, però... E' stato bello, no? E' stato bello sicuramente. E poi nel 2009 comincia la sua collaborazione, niente poco di meno che con Franco Battiato, con il quale ha cosceneggiato il film Handel, portato in scena poi il melologo L'incubo della Farfalla, che è diventato poi anche un libro. Per linea edizione ha scritto diversi romanzi, vive fra Berlino e Venezia, e si dedica allo sviluppo e alla scrittura di romanzi, film, serie televisive, opere teatrali, videogame, progetti transmediali. C'è ancora qualche cosa che abbiamo dimenticato di leggere? E che più ne ha più ne metta. Sì, sì, tendo a diversificare. Ho scritto anche un audio sceneggiato per Audible, è uscito un paio di anni fa, con Matteo Strucula, Quattro Mani, Paganini si chiama, 10 puntate su Audible Italia. Per il resto comunque cerco di diversificare la scrittura. Certo, ecco, e proprio su questa diversità di scrittura, no? Un conto è scrivere un romanzo, un conto è scrivere un'opera teatrale, una serie televisiva e così via. Ecco, però passare da uno all'altro ci vuole una certa elasticità mentale, ci vuole una conoscenza del mezzo su cui lavorare non da poco, Francesco Ferracini. Spero di riuscirci, io sono sempre creduto, fin da quando ero studente, che in realtà la storia che si vuole raccontare è quella che detta lo stile, è detta il genere con cui raccontarla. Grazie al cielo la tecnologia ci è venuta in conto negli ultimi decenni, già negli anni 90, e ci permette di ampliare questa scelta di mezzi espressivi. Diciamo che la mia anima poetica, quando ho scritto tipo L'Inquo della Farfalla, che è un poema che ho parlato con un melologo, appunto come lei diceva, è molto diversa da quando scrivo un noir o da quando faccio un sceneggiatore di un film o di un videogioco. Sono tecniche diverse che si possono imparare, però credo che la cosa fondamentale sia avere bene in mente quello che si vuole dire e come lo si vuole dire. E poi con l'allenamento, con le letture, credo che sia importante, che è un consiglio che do sempre anche ai giovani, di leggere, di guardare film, di più possibile, perché anche da lì si impara molto. Avere bene in mente ciò che si deve scrivere e avere bene in mente, e qui entriamo poco per volta, nel suo nuovo romanzo, La Leonessa, avere bene in mente quando comincia la storia, come va a finire. Lei, quando ha cominciato a scrivere questo romanzo, sapeva già esattamente la fine, Francesco Ferracin? La sapevo indicativamente perché ho avuto la fortuna di aver avuto per le mani i diari della donna su cui ho basato la protagonista di questo romanzo. Quindi la sua storia era sicura. Era sicura. Quindi sapevo più o meno come doveva svolgersi. È chiaro che nella storia di una vita è sempre difficile scegliere il periodo. E poi ovviamente ho scelto comunque di fare della fiction, della biografia di questa donna tedesca. e non avevo ancora in mente come sarebbe finito. Sapevo il tono della fine, sapevo il messaggio che volevo dare. Non sapevo ancora come darlo e spesso scrivendo vengono in mente prospettive e soluzioni a cui non si era pensato. Comunque io sono molto tecnico, quindi mi piace molto lavorare anche sulla struttura, prima di cominciare la struttura vera e propria. Cosa vuol dire essere molto tecnico? Vuol dire che per esempio sul suo tavolo di scrittura ci sono tutti i pezzi di carta con i nomi dei protagonisti, gli spostamenti e tutte le mappe? Esattamente, sono molto pedante in questo. Scrivo le biografie nei romanzi, scrivo le biografie di tutti quanti i personaggi, protagonisti, comprimari. Ho stato un anno a fare ricerche in biblioteca, online, eccetera, per sapere che musica ascoltavano in quel mese del 1961, che cosa davano in scena nella Dolce Opera di Berlino nel 63, che cosa poteva leggere un giovane nel 57, eccetera. Ho anche guardato le previsioni del tempo dell'epoca, giusto per raggiungere ancora un po' di realismo. Quindi diciamo che il lavoro di base, che ho imparato molto nel cinema, io ho scritto otto film, e questa è una cosa fondamentale, avere bene in mente lo scheletro e la suddivisione di scene, che a volte uso anche quando scrivi romanze come tecnica. Il mistero dell'amore è più grande del mistero della morte, e queste parole sono parole importanti, arrivano da Salomei, quindi attraversano tutte le 647 pagine di questo romanzo. Ma dire 647 pagine non vuole dire spengo l'ascolto di questa conversazione e vado oltre, perché 647 pagine bisogna entrare dentro questa storia, e poi piano piano la si costruisce, la si comprende, la si condivide e poi la si porta alla fine. Ecco, questa frase perché attraversa questa storia? Perché questa, se io l'ho vista, nonostante sia una storia molto drammatica, chiamiamolo un romanzo di formazione, un dramma ambientato durante una guerra, in realtà è un grande romanzo d'amore. Quello che ho cercato di portare avanti è questo discorso sul mistero dell'amore, un amore che ha spinto la protagonista a lasciare la sicurezza di un paese che lei amava, nonostante tutto, la Germania Est. Lei non era una dissidente, è nata veramente per amore dalla Germania Est nel 64, e per inseguire un uomo di un paese completamente strano alla sua cultura e per imparare che l'amore non ha definizioni, non è possibile definirla qualcosa di talmente potente che ti spingerà a fare, non voglio dire troppo della trama, a fare cose che non si può credere, a sfidare non solo le convenzioni, ma la morte, il tempo e ogni cosa. Salome l'ho molto amata, sia come opera teatrale, poi l'opera di Strauss è fenomenale, ed era un'opera che la protagonista aveva visto, anche se non c'era scritto nel libro, quindi ci tenevo che fossero le parole di un grande compositorio tedesco, mutuate da un grandissimo scrittore inglese a dare un po' il segno a questa storia, che effettivamente sono eternamente grato all'editore per avermi concesso la possibilità di scrivere così tanto, perché è molto difficile a giorno d'oggi pensare a queste lunghezze, però mi sono anche chiesto, insomma i ragazzini, Harry Potter sono 600 pagine, 600 pagine, i Scrivano gli Anneli sono 1000 pagine, secondo me, per non parlare dei russi, cioè bisognerebbe tornare a dedicare un po' più di pazienza alla lettura. Perché infatti, stavo pensando Francesco Fercino mentre diceva a proposito di Harry Potter, però quello che ci diceva un ospite proprio poche settimane fa, inerente alle quantità di pagine, più di 500, a volte 1000, e si vedono dei lettori con questi volumoni, ma la maggior parte sono volumi di fantasy, per cui se nel fantasy c'è la possibilità di andare oltre una certa standardizzazione di pagine, perché non lo possono fare tutti gli altri? Poi io credo che la numerazione pagine sia molto 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 relativa, tutto conta la storia che c'è dentro. Però, prima di entrare nella storia che c'è dentro, andiamo all'immagine di copertina. Che cosa ci racconta Francesco Fercino? Ci racconta questa interessante, come si può chiamare, metamorfosi della protagonista, appunto diceva un romanzo di formazione, comincia nei primi anni 50 nella Germania Est, quando aveva 16 anni, e si sviluppa nell'arco quasi di un ventennio, quindi la vediamo crescere, la vediamo sbocciare anche la protagonista, attraverso anche traumi e dolori, per carità. Poi sono anni molto difficili, quelli del dopoguerra in Germania, come l'Europa, ma specialmente in Germania Est. e anche questa dualità, c'è molta dualità, molta coincidenza degli opposti anche, sia nei personaggi che nello sviluppo della storia, ci sono queste opposizioni di geografiche, di colori. Io ho cercato anche un po' di lavorare su un piano simbolico e sinestetico, per certi versi, che dico senza voler spaventare il lettore. E questo è molto importante. È un'informazione in più, il mio obiettivo era quello di raccontare, non c'è una storia, che potesse essere letta con passione, spero. Tutto il resto, i vari livelli di lettura, che spero il lettore paziente, voglia trovare, sono un extra, che è stato quello che mi ha fatto passare, appunto più di due anni su queste pagine, perché ci tenevo comunque a raccontare sia un conflitto dimenticato, ma soprattutto una parte del nostro passato che è necessaria per comprendere anche il nostro presente. E questo non vale solo per l'Africa postcoloniale, vale anche per l'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, e soprattutto per quella generazione che ha attraversato quel grande momento di svolta epocale, che è stato quello, cioè, dalla prima della Seconda Guerra Mondiale al dopoguerra. Lei ha citato prima, prego, stava dicendo, scusi? No, 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 prego, prego. Parlava prima dei diari, dei diari di Christelle, chiamo Christelle perché temo poi di sbagliare la pronuncia, e come ha venuto la conoscenza di questi diari? La figlia, Patrizia Rosin, è la figlia della protagonista del romanzo, è andata in contatto con il mio editore proponendole di, in qualche modo, pubblicare la storia di sua mamma. Fin dall'inizio, era un diari scritti in tedesco, io sono germanista di formazione, e quindi già questo aveva un piccolo vantaggio, il fatto che potevo leggerli, ma avevamo pensato fino all'inizio che non, che fosse meglio trasformarli in un romanzo, piuttosto che scriverli, che tradurli direttamente o scrivere una biografia. perché la storia appunto dava la a molti altri temi che a noi premeva raccontare. Patrizia è stata totalmente gentile, la figlia della protagonista, a conoscermi questa libertà, fidandosi ciecamente, perché ovviamente quando la storia è così vicina a te, pur non essendo sua mamma la protagonista del romanzo, lo è in un certo senso, e quindi me l'ha fiata nelle mie mani e anch'io ho dovuto trattarla con i guanti bianchi, perché come diceva, io ho scritto anche noir, hard void, intendo a volte ad avere un approccio abbastanza crudo con la scrittura, e in questo caso invece ho pensato di cambiare registro completamente anche per, perché comunque la storia è drammatica abbastanza per non esagerare. E comincia proprio in maniera in maniera crudele e drammatica questo romanzo, quando vediamo quasi una scena come lei scrive, come se fosse un quadro di Brugger il vecchio, no? E si vede il corpo dell'uomo che pendeva dal lampione, ecco, questa è l'apertura di questo romanzo, ed è un'apertura che non si può, non si può dimenticare facilmente, perché, perché entra, entra anche l'ultima parola, che è la parola che chiude questo romanzo, è la parola destino, e queste due situazioni in un certo qual modo si parlano, c'è tutta la vicenda, questa lunga vicenda, ma queste due situazioni, dicevo, si parlano, e come, Francesco Ferracini? Ah, sono veramente felice che lei abbia messo in evidenza questa cosa che ci tenevo fosse comprensibile. C'è tutto in quella scena iniziale, è un po' il riassunto di un'epoca, e quello che ho cercato di fare, questo posso raccontarlo, perché comunque lo dico all'inizio, è l'unica vittima nella città in cui è ambientato il romanzo all'inizio, che è erata in una piccola cittadina vicino a Berlino, l'unica vittima di una rivoluzione, quella del 17 giugno del 1953, che avrebbe potuto diventare una specie di Budapest nel 1956, oppure di Praga. Ed è comunque, in questa scena si riassume un po' lo spirito della Germania Est di quei tempi, e del disprezzo per la vita umana, e per molti valori che lo stalinismo ha avuto, specialmente nei primi anni di transizione dopo la Seconda Guerra Mondiale. E non solo questo, in tutto quello si legge anche il destino della Germania. Io spero di essere riuscito in quelle poche pagine iniziali più o meno a dettare il passo. Ci tenevo ad aprire con una scena così cruente, così pittorica, per creare una certa semplicità. E quindi per... Perché poi, ovviamente, la narrazione si distenderà, anche se passerà attraverso anche fasi drammatiche, ma una via così... Ma non sarà così drammatico poi, ovviamente, prenderà un'altra piega, anzi, prenderanno molte pieghe, perché... Perché la storia di Enrique, Enrique Beck, questa ragazza, questa giovane ragazza, 22 o 23 anni, non ricordo più, ha una sua vicenda veramente molto singolare, l'ha già accennata lei all'inizio, Francesco Ferracin, e lei vive a Berlino e a Berlino conosce Alexander e con Alexander comincia veramente una piega diversa della sua vita e comincia anche uno sguardo nuovo, non tanto perché ha conosciuto questo giovane ingegnere nigeriano, quanto soprattutto proprio lo spostamento geografico che dovrà realizzare questa giovane donna, anzi questa coppia. Ma non è semplicemente uno spostamento geografico, e qui c'è uno spostamento culturale non da poco, che lei racconta anche all'interno nelle letture dei vari registri che possiamo trovare in questa storia, e questo è un modo molto importante nel farci capire, nel farci comprendere anche la società di quel tempo in Nigeria. Sì, è vero, Rike ha trascorso un'infanzia in una specie di bolla, come molti giovani portati alla fantasia usano a fare, particolarmente in epoche molto difficili come quella in cui lei è cresciuta. Quindi, l'amore da 16enne, 17enne, l'amore ideale, romantico per un artista, vedremo come si sviluppa, comunque il suo primo marito era tedesco, sposata giovanissima come si sa da fare a quel tempo e non è, ora non voglio appunto tradire troppo la trama, però l'amore giovanile si è destinato a spegnarsi a un certo punto e le circostanze della vita l'hanno portata conosce questo Alexander che è un ingegnere nigeriano e anche questa è una cosa che quando ho avuto i diari mi è molto affascinato per pensare che c'erano moltissimi studenti africani in Germania Est non solo dei paesi allineati ma anche dei paesi diciamo che potevano essere sotto sotto le mire di conquista dei paesi del porto di Versailles E Rike in un certo modo sfida anche il destino a un certo punto del romanzo se ricordo bene dice sono quelli che non hanno il coraggio che danno la colpa al destino Rike non è così no lei non è non è per niente così lei è molto razionale in questo e la sua razionalità l'aveva sempre un po' frenata e la cosa che capirai quando vai in Africa per questo la scelta che lei fa di lasciare alla Germania Est un futuro sicuro di insegnante perché la vita era programmata lei aveva studiato eccetera per andare in fronte in un paese alieno con un destino che da scrivere sembra una scelta irrazionale e la cosa che lei impara appunto è questa di da un lato di non affidarsi ciecamente alla sua ragione ma dall'altro di non pensare che il suo destino sia predeterminato in nessun senso che lei ha in mano la sua vita che lei è l'artefice del suo destino perché lei è l'artefice delle sue decisioni e questo comunque la salverà alla fine la salverà e si evince molto bene secondo le parole che abbiamo ascoltato da Francesco Fercin quando cominceremo la lettura delle sue lettere dopo che lei si è diplomata tra l'altro con il massimo dei voti alla scuola superiore di pedagogia e poi anche e deve badare anche la piccola Matilde ha a mio pare due anni o poco più e allora comincia le sue lettere cominciando proprio da Posdam e questo è un altro aspetto importante di questo romanzo certo che andare a leggere le lettere è veramente come aprire la porta di casa di questa donna si 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 e ci tenevo anche a questo perché infatti questo è vero l'ho un po' mutuato dal cinema io ho scelto di scrivere tre libri in uno diciamo e per questo ho optato per tre scelte stilistiche diverse pensando di avere in mano una telecamera quindi quando la prima parte del libro il primo libro che è la parte della gioventù in Germania Est prima degli studi è descritta in terza persona col tempo storico quindi l'obiettivo è più lontano quindi la vediamo non entriamo ancora nella protagonista nella seconda parte diventa un romanzo epistolare quindi in quel momento entriamo nella testa di Rick e cominciamo a sentire la sua voce e cominciamo a sentire il suo pensiero che si forma all'università in uno specchio di scambio corale con le sue amicizie con il suo amantico con il mondo poi presunti con il suo mondo nella università di Potsdam che è una cittadina attaccata a Berlino mentre la terza parte quando lei sceglierà di non dare per la sua ragione seguire si potrebbe dire anche il cuore ma lei segue l'anima secondo me diventa una prima persona prima in forma diaristica che poi si srotola in una specie di flusso di coscienza al presente questo per sia per aumentare la drammaticità da un lato ma anche per per entrare veramente nella testa della ricca matura della ricca che può trarre delle conclusioni da questo suo cammino della scoperta della sua anima e poi trovare avere la sorpresa tra le varie sorprese di questo romanzo avere la sorpresa di leggere qualche cosa che non si è mai più ascoltato ovvero il canto della terra di Mahler e allora e allora dopo che l'avevo quasi perso di vista se potremmo dire così sono andato a riascoltare questa straordinaria a composizione per contralto tenore se ricordo bene ovviamente per l'orchestra è una musica meravigliosa è una musica fantastica io amo molto Mahler come anche mi amo molto Wagner i tedeschi in generale per me la musica è tutto diciamo che io scrivo non vorrei tanto essere un compositore ma visto che non ho talento lo scrivo ma per scherzi a parte Mahler si sposa perfettamente con quello che intendevo dire e poi il canto nella terra in quella situazione in Africa nella situazione in cui lei si trovava era la perfetta interpretazione musicale di quello che volevo dire per il fatto poi che anche Mahler non solo l'ha scritto in Italia a doppiaco all'epoca non era Italia ma comunque nella nostra area geografica e poi è una storia presa da un poema cinese quindi anche lì la grande arte che è quella di Mahler va al di là delle lingue dei confini delle culture è sintetica in un certo senso e questo ci tenevo anche nell'edizione di Bernstein che è quella che lei cita che ha ascoltato che è una delle registrazioni migliori tra l'altro a doppiaco se i nostri ascoltatori pensano di andare in vacanza da quelle parti si ricordino che la casa di Mahler dove lui componeva si può anche visitare non credo tutti i giorni ma nel fine settimana sicuramente è visitabile Francesco Ferracino è un posto incantevole è un posto veramente incantevole straordinario quindi il genio Sloci è conta La Leonessa il libro che abbiamo raccontato insieme col suo autore Francesco Ferracin il libro lo ricordo è pubblicato dalla casa editrice padovana linea edizioni ma prima di salutarci qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni in questi giorni sto rileggendo Neuromante di William Gibson Neuromante è tutta altra cosa ovviamente ma bisogna essere plural è un romanzo cyberpunk è un romanzo cyberpunk che ho amato molto da ragazzino che ora vorrei un attimo vorrei rileggere con un po' di dopo dopo 30 anni per entrare in un altro in un altro spirito per i futuri lavori perché questo è veramente neuromante neuromante il romanzo per eccellenza della fantascienza ha visto molte cose prima di altri Philip K. Dick e William Gibson sono fra i grandi visionari della fantascienza e del cyberpunk in questo caso grazie davvero Francesco Ferracini e buona giornata grazie a lei buona giornata anche a lei grazie grazie a lei grazie a lei grazie a lei grazie a lei